Campione nello sport e campione anche di beneficenza. Si chiama 5.0, il libro fotografico di Emanuele Gambini, cinquantenne plurimedagliato atleta dell'ASD Gabbiano, che dopo un anno in cui ha fatto incetta di titoli internazionali nelle discipline del Pentatron, quale Beatle, Triathlon e Laser Run, ora chiude il 2021 mettendosi al collo pure la medaglia d'oro della solidarietà. Gambini ha infatti realizzato un volume il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza alla fondazione Noi Domani, che si occupa delle esigenze di persone con disabilità. Orafo, consigliere comunale pentatleta, e ora Gambini è anche autore di un libro che è stato presentato all'Hotel Alexander Museum Palace di Pesaro. 5.0 è un progetto che era nato un libro fotografico, uno storytelling su un atleta non professionista della città di Pesaro, hanno scelto me. In questo anno e mezzo poi la decisione è stata quella di pubblicare personalmente il libro per fare un'azione di solidarietà, di essere un buon esempio. Quindi ho deciso di pubblicare il libro, verrà pubblicato non da una casa editrice ma direttamente personalmente da me. Lo venderò a 10 euro e tutto il ricavato verrà dato in beneficenza alla fondazione Noi Domani. La fondazione Noi Domani è un'associazione di Pesaro che si occupa dei ragazzi con disabilità, ci sono ragazzi con varie disabilità, e quindi fare questo gesto nobile può essere anche un buon esempio per altri da seguire, per poi comunque perseguire questa strada e fare altre opere di solidarietà e di essere un buon esempio anche per gli altri. Il libro si troverà dai prossimi giorni sia alla fondazione Noi Domani, alla quale verranno lasciate un po' di copie, oppure contattando direttamente il sottoscritto su Facebook e i vari canali social.